Raimon Dassi del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa. Qual è il rapporto tra le istituzioni pubbliche e il sistema radiofonico? Sono rapporti di tantissime facce. La radio è nata sotto la spinta dell'istituzione pubblica, anche se nel frattempo si è un po' ritirato come creatore, e si è mantenuto un ruolo di regolatore. Quindi anche col core, come un pezzo della regione, con competenze assegnate anche a livello nazionale, si occupa dell'regolamento, del sistema, e anche di promuovere qualche ricerca affinché il sistema radiofonico in generale possa funzionare bene. Questo è quello che posso dire così, correndo sul ruolo che c'è, sulla relazione tra l'ente pubblico e la regione. Grazie.